Gli abitanti di Materno non si arrendono e continuano la loro mobilitazione per cercare di evitare la chiusura dell'ufficio postale del quartiere collinare di Salerno. Prosegue la raccolta firme in attesa di un tavolo di confronto con poste italiane che per ora non ha ancora modificato la propria decisione annunciata nelle scorse settimane di poter chiudere la filiare spostando tutti i servizi a fratte. Il comitato ha anche inviato in questa settimana una lettera al sindaco e al prefetto di Salerno per chiedere la convocazione di un tavolo sottolineando i disagi ai quali rischiano di essere sottoposti soprattutto gli anziani che per la penultima volta si sono presentati al loro ufficio postale per il pagamento delle pensioni. Stando agli ultimi sviluppi questo sarà il penultimo mese, l'ultimo è quello del primo dicembre. Noi come comitato non ho proposte, ci siamo attivati tramite il prefetto per far istituire un tavolo di confronto con tutte le organizzazioni sindacali e con i direttori delle filiali di poste di Salerno, il direttore delle risorse umane di Roma e quelli di Napoli. Vi siete anche attivati per cercare un locale alternativo visto che si parlava tra i vari problemi di una indisponibilità del locale. Noi come associazione abbiamo pure l'alternativa, al tavolo andiamo con una nostra proposta di un locale adatto, adattissimo, forse pure meglio di questo che si può mettere anche il banco posta perché hanno prima ai vecchietti obbligati a fare questo banco la posta pay qui, però non c'è qui, devono regarsi a fratto. Le bollette per adesso, anzi vi continuano ad arrivare insomma? Il team paga anche questo, però vedete arrivato. Però se ti andate a pagare a fratto? No è meglio qua, è più comodo qua, fratto è molto disastroso per noi vecchietti. Perché? Siamo vecchi, dobbiamo dare a fratto, a fratto c'è confusione enorme, siamo pure noi qui da guerra, se dobbiamo dare a fratto è guerra fratto, è troppa gente, troppe persone, troppi clienti, non possiamo secondo il mio parere, perché qua la zona è grande, Matirno, Cappello, Passorano, giù il palazzino dove sta il giornalaio, sono migliaia e migliaia di persone. Sì. 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 Sì.